Una passeggiata di due chilometri per ribadire l'importanza della legalità in un luogo troppe volte alla ribalta delle cronache per vicende di malavita. Tutto questo è stata Vivi Città Caivano, l'evento che sotto la bandiera UISP dello sport sociale ha coinvolto tanti giovani in tutta Italia. Nel paese del Napoletano la marcia ha avuto come punto d'arrivo Viale Tulipano, dove sorge un campo polivalente di attività sportive sempre aperto per favorire l'aggregazione. Tappa intermedia davanti alla parrocchia di San Paolo Apostolo, dove in una juola adottata dall'associazione Un'infanzia da vivere, nella quale è presente un'installazione per ribadire il no alla violenza sulle donne, è stata simbolicamente piantata una mimosa.